Siamo qua, stasera abbiamo fatto la prestazione della squadra, ho visto una buona squadra però vedo che i giocatori sono un po' flosci, il mister è carico, il pesca è, tutta la gente qua abbiamo lavorato per loro, però ho lavorato bene la squadra, ma l'ho vista un po' così cos'ha? La griglia, la squadra della griglia, la squadra della griglia è perfetta, però la squadra che giocherà quest'anno per me è una retrocessione della sicurezza, lo dico io, io vedo una cosa del genere, io di calcio me ne intendo, ho visto i giocatori che hanno tanta volontà ma non hanno pazienza, non hanno stimolo, non hanno, non lo so, la scintilla, non hanno quella scintilla che può scattare, noi siamo la scintilla che vogliamo gente che hanno le palle, capito, e qua vedo gente un po' moscia, però va bene così dai, speriamo di salvarci, se ci salviamo quest'anno perché le altre squadre si ritirano, se no non ci salviamo, lo dico io, un'ultima, visto i nostri amici internazionali, se vuole salutarli, qualcosa di inglese, ah, wow, 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 thank you very much, grazie a tutti al filo del senso